Oggi parliamo delle tempistiche ufficiali di rilascio di una marea di funzioni che riguardano la guida autonoma anche per l'Europa. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi parliamo di guida autonoma perché su X stamattina Tesla ha rilasciato una serie di funzioni che rilascerà da qui ai prossimi mesi e attenzione perché ci sono delle novità molto interessanti anche per quanto riguarda la guida autonoma in Europa. Almeno si spera perché l'aspettiamo veramente da tanto. Allora andiamo con calma e andiamo a vedere che cosa ha scritto esattamente l'account Tesla AI che è stato tra l'altro modificato da poco. Allora l'account dice che nel settembre 2024, quindi siamo già a settembre, che cosa succederà? Un sacco di cose. Allora il rilascio della versione, qui in questo caso parliamo di Stati Uniti, ovviamente parliamo di FSD, 12.5.2 attualmente in distribuzione la .1. E che cosa comporta come novità questa versione? Che si migliora di tre volte, di tre volte, le miglia percorse prima dell'intervento umano. Questa è una metrica fondamentale per capire il miglioramento dell'FSD. Cosa significa? Che se la versione precedente aveva per esempio, dico numeri a caso, 10 miglia di media percorse prima dell'intervento umano, questa versione promette 30 miglia prima dell'intervento umano. Tesla come fa a individuare questo fattore di miglioramento. Ovviamente queste versioni sono già in test da tempo, perché di solito quando Tesla rilascia una versione ne ha almeno due o tre già in test interno. Quindi Tesla già sa quale sarà il ratio di miglioramento. E migliorare di tre volte è veramente, veramente tanto. Questo è possibile solo ed esclusivamente grazie all'intelligenza artificiale. Quindi questa è la prima novità. La seconda, sempre la stessa versione, la 5.2, sulle auto che hanno hardware 3, che è stato rinominato AI3. Quindi cosa significa? Che come abbiamo già visto ultimamente Tesla ha cambiato lo sviluppo di FSD passando ad hardware 4, quindi quello per capirci che è montato sulla nuova Model 3 anche in Europa, per poi andare a modificare il software in modo tale che giri anche su hardware 3. Quindi anche le auto con hardware 3 continuano comunque ad avere gli aggiornamenti di guida autonoma. Poi, Actually Smart Summon. Allora, ne abbiamo parlato proprio qualche puntata fa. Che cos'è la funzione che permette di muovere l'auto tramite l'app senza nessuno a bordo? Andate a rivedervi la puntata dei lampi in cui ne abbiamo parlato. Allora, Actually Smart Summon è già stato rilasciato effettivamente. Che cosa significa scriverlo qui? Beh, secondo me significa che a breve, entro settembre, si spera ci sarà il rilascio per tutte le auto, quindi perché adesso l'hanno ricevuto solo pochissimi utenti e si spera anche in Europa a questo punto e sarebbe veramente ora anche solo per il Sammon normale per le auto senza sensori. Poi l'autopark per il Cybertruck perché il Cybertruck da poco, attenzione, da poco perché dalle prime consegne del novembre scorso il Cybertruck non aveva neanche la funzione di assistenza al parcheggio intesa come Tesla Vision, quindi si parcheggiava proprio a vista, però c'è anche da dire che il Cybertruck ha la telecamera anteriore, quindi è un grosso aiuto. Ultimamente il Cybertruck ha ricevuto le funzioni di Tesla Vision per il parcheggio, quindi si vedono a schermo i colori che diventano man mano sempre più rossi man mano che ci avviciniamo agli ostacoli, l'autopark non è ancora stato rilasciato e quindi arriverà autopark anche per il Cybertruck e poi iTracking with Sunglasses. Allora negli Stati Uniti è possibile con FSD guidare senza toccare il volante, ma solo e esclusivamente se la telecamera interna vede gli occhi. Con questa nuova funzione, questi nuovi aggiornamenti, sarà possibile farlo anche con gli occhiali da sole. Staremo a vedere se funziona. Poi, end-to-end network on highway, che cos'è? Fondamentalmente il single stack, promesso veramente da tanti anni, secondo me parzialmente era stato inserito, che cos'è il single stack? Parliamo sempre per ora di Stati Uniti, ma poi vi dico un risvolto che probabilmente migliorerà anche in Europa. Attualmente, se voi guardate i video dell'FSD, di solito sono in città, quindi parliamo di FSD puro, anche quello che ho usato io l'ultima volta che sono stato negli Stati Uniti a gennaio. Quando andiamo in autostrada, la macchina non usa più le reti neurali che usa, o almeno non usa tutte le reti neurali che usa invece in città. Questo aggiornamento va a unificare la programmazione, diciamo così, in modo tale che l'auto in qualsiasi condizione usi effettivamente le reti neurali più avanzate, cioè quelle che l'auto usa in città. Che cosa significa? Che l'auto, anche in autostrada, è decisamente più fluida, con una guida più simile alla guida umana. Quale può essere il risvolto per l'Europa? Potrebbe essere portare quel tipo di programmazione di reti neurali anche in Europa, in autostrada, dove normalmente utilizziamo Autopilot. Vi assicuro che già quello sarebbe un balzo in avanti enorme, lo speriamo. E poi finalmente anche l'FSD sul Cybertruck, perché tra l'altro il Cybertruck non ha ancora Autopilot, non ha solo il cruise control neanche adattivo, per ora il Cybertruck. Vabbè. Poi, per quanto riguarda Ottobre, anche qui tre novità molto, molto interessanti. Quindi, il Unpark sarebbe togliere la macchina al parcheggio. Il parcheggio e la retromarcia in FSD. Che cosa significa? Significa che, allora, attualmente negli Stati Uniti le auto con FSD, se sono parcheggiate in un parcheggio parallelo, con abbastanza spazio per uscire dal parcheggio, quindi i soliti parcheggi AS, si inserisce normalmente la marcia e la macchina esce dal parcheggio. Se invece si trova in un parcheggio troppo stretto, la macchina non esce perché non ha questa capacità, almeno non è ancora stata programmata, non è ancora stata rilasciata. In questo caso Tesla rilascia questa funzionalità, quindi effettivamente in qualsiasi condizione la macchina sia parcheggiata, l'FSD dovrebbe avere la capacità di uscire dal parcheggio. Il risvolto è esattamente la condizione opposta dell'autopark. Cosa vuol dire che attualmente l'autopark, ce l'abbiamo anche noi e come dicevo funziona secondo me molto bene, magari ci sarà la possibilità di far uscire la macchina dal parcheggio, tra l'altro funzione che è disponibile anche in altre auto. Poi park, cosa vuol dire? Già c'è il parcheggio automatico ma viene fatto direttamente dall'FSD, quindi cosa vuol dire? Che quando la macchina arriva a destinazione in automatico trova il parcheggio e si parcheggia e poi reversi in FSD, cioè retromarcia. Se la macchina deve fare una manovra, magari arriva in una strada che non ha via d'uscita per lavori o altro, avrà la capacità di fare manovra e quindi inserire l'elettromarcia. Oppure se magari arriva a uno stop, esce leggermente per vedere, per avere più visibilità, magari uno stop stretto dove ci sono dei muri di fianco o comunque degli impedimenti, se arriva un'altra macchina, una macchina dalla strada principale, in questo caso ha la capacità di tornare leggermente indietro e togliersi dalla strada principale. Ecco questa è un'altra funzione molto molto interessante che ancora non esiste. E poi per ottobre dalla versione 12 passiamo alla versione 13 con, prima abbiamo parlato di tre volte di miglioramento di miglia tra un intervento e l'altro, sei volte il miglioramento di miglia tra un intervento e l'altro, quindi un altro grandissimo miglioramento. Ma ora veniamo alla parte che probabilmente ci interessa di più. Q1 2025, FSD in Europa, FSD in Cina. Attenzione, pending, regulatory approval. Tesla che cosa ci vuole dire? Tesla vuole dirci che sta lavorando da tempo all'FSD in Europa e in Cina, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo visto tanti indizi. tra l'altro io posso assicurarvi al 100% che Tesla a oggi è tranquillamente pronta a mettere per strada le auto con FSD anche in Europa. Pending, regulatory approval, significa che noi siamo pronti, cioè Tesla è pronta, se la legislazione vorrà farcelo fare noi saremo ben lieti di farlo. È normale che, io penso che in Cina sicuramente a gennaio avranno l'FSD. Per quanto riguarda l'Europa, già da gennaio scorso e mi ricordo perfettamente la puntata in cui ne abbiamo parlato perché ve l'ho fatta dall'albergo di Roma prima di andare a Austin, si sta lavorando, l'Unece sta lavorando per migliorare la possibilità di provare, di sperimentare la guida autonoma anche in Europa. Probabilmente la strada sarà ancora un pochino lunga però se non è Q1 potrebbe essere Q2 o Q3 2025. Questa è la mia stima. Perché? Perché la bozza del nuovo regolamento è stata discussa a sorpresa a luglio con delle modifiche, quindi in tempi veramente record e tra settembre e ottobre dovrebbe essere ottobre la prossima riunione dell'Unece in merito proprio alla sperimentazione in guida autonoma potrebbe uscire effettivamente qualche decisione per avere magari entro gennaio un qualcosa di definitivo che poi gli stati potranno ratificare e mettere in pratica. Quindi insomma le premesse ci sono tutte. Ripeto, se non sarà il Q1 magari sarà il Q2 o il Q3 ma ormai direi che ci siamo e questa è davvero un'ottima notizia. E ora finalmente era tanto tempo che non vedevo una consegna e salutiamo Giovanni che ha ritirato qualche giorno fa la sua Model 3. Eccola qui, bianca, vabbè. Bravo Giovanni, complimenti. Mi raccomando mandatemi le foto. Adesso ci avviciniamo verso la fine del trimestre, quindi immagino ci saranno un bel po' di consegne. Aspetto le foto, se volete ve le mandate e io vi saluto più che volentieri. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie! Grazie! Grazie!